Condividere misure adeguate per fronteggiare la crisi che ha colpito il comparto agricolo, individuare attività strutturali e di programmazione a lungo termine e studiare strategie comuni di crescita che permettano di guardare all'area di libero scambio del Mediterraneo. Erano questi gli obiettivi del tavolo di confronto programmatico organizzato dall'assessore alle politiche agricole della regione Puglia, Dario Stefano, che a Bari ha incontrato i colleghi delle altre regioni del sud. Le questioni agricole meridionali devono essere agganciate a un'azione di più ampio respiro che abbia come obiettivo finale il rilancio dell'agricoltura nazionale, ha spiegato Stefano, ed è per questo aggiunto che porteremo i risultati di questo confronto alla Commissione nazionale che mi onoro di presiedere. La mia idea è quella di fare uno sforzo di ragionare insieme, non in una logica secessionista o di parte, tanto più io non posso permettermi, avendo l'onore di essere anche il coordinatore del tavolo nazionale, però credo che possa essere un valore aggiunto anche per il tavolo nazionale se le regioni del mezzogiorno riusciranno ad avere dei punti di comunione ed una strategia comune.